quando ero piccolo il mio sogno era quello di diventare grande anzi un gigante tutte le mattine mi alzavo per vedere di quanto ero cresciuto ne inventavo una al giorno per potere superare i miei limiti e per raggiungere nuove mete un giorno cercai di mettermi delle ali per spiccare il volo e vedere al di là di quella finestra anche il mio amico arun cercava tutti i giorni soluzioni creative per crescere eravamo tutti curiosi di capire cosa fosse essere grandi e vedere il mondo da un'altra prospettiva ora guardo con gioia il mio passato e vedo da lontano tutto ciò che mi ha aiutato a diventare la persona che sono oggi aiutaci anche tu a farci diventare grandi da dieci anni ci impegniamo a realizzare con i giovani percorsi di educazione alla pace per affrontare insieme le sfide del mondo in cui viviamo da lontano tutto ciò che ti fanno da lontano tutto ciò che ti fanno